Ecco qua, sta per arrivare l'Inter. Diretta pronta di Matteo Barzaghi. Scorta e Pullman, ragazzi. Scorta e Pullman, ragazzi. Scorta e movements. Scorta e caminati. Scorta e caminati. Scorta e caminati. Scorta e caminati. Qualche problema di manovra, che però lei ha già provato perché avete visto che c'era già questa mattina e adesso l'ingresso dell'FC internazionale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che vi fa vivere tutto questo. Siamo proprio attaccati, eh? Dai, mister! Dai che ce la facciamo! Dai, ragazzi, dai! Grandi! Dai, bomber! Dai, bomber, dai che ce la facciamo! Grandi! Eccoci qua. E' una screener, Varella, che passa sotto Alberto. La cancola a noi, che capitano della Turchia, salutato da tutti perché è una situata emozionante, onana. ed ecco Lukaku, che entra seguito da Militarian, il direttore ausilio da Brosio, che ha fatto anche l'elettro Dzeko, che sta inciampato. Lo spenalti! Perché c'era un gradino, che scatta da... di carriere poco su di più bello. Cose che cambiano, c'è un gradino nascosto. Quelli sono entrati tutti. Anche il direttore sportivo, il vaccino, che sta entrando. Ecco il presidente Steven Zhang. Ecco il presidente. How are you? Very good. Insomma, senti bene anche per lui. E' un momento importante. C'è anche Marotta, se ci giriamo. Ecco, vedete Marotta che entra. Questo adettivo è tutto. Dai, grande Peppe! Giordano Varo e tutta la dirigenza. L'Azzurra. Insomma, credo che siamo arrivati quasi tutti. No, c'è anche Gigi Krippa. Anche il presidente Steven Zhang, tu nella squadra. C'è anche Christian Kivu, allenatore della Primavera. L'eroe del periflete. Lui che l'ha vinto. Insomma, abbiamo raccontato tutti i quarti, i protagonisti, i presenti. Il padre Piazza Pai. Io lo vedete. Alberto è davanti a Alberto Marmara. Qui, a Istanbul. Il sede del periodo del lì. Il mitico... Grande Doc. Grande Doc. Nutrizionista. Pincella numero uno. E qui è ancora lo staff che arriva. Qu'è un voce di mascine? Ciao. Ciao. Ho. Ho. Devoce. Questo ciò che viene. Mai고. Cosa. Ciao. 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 Ciao ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Stai carico? Sto carico io. Devo star carichi loro. Puff? Puff presente. Puff presente in Turchia. Quella è la macchina da cui è uscito Steven Zhang. Vedete che è tutto blindatissimo, vengono allontanati i curiosi, i cacciatori di autografi, tifosi vari. E questo è il regalo di benvenuto per Steven Zhang. Tutti che raggiungono le loro camere, già tutto stabilito. E il pullman che fa manovra dopo tutti i chilometri che ha fatto... Domani rifinitura del pomeriggio, un'ora di allenamento. prima conferenza stampa di... Inzaghi e... Impreparata. Chi parla domani Matteo? Inzaghi e... Cialanoglu e... E? 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 Darmian. E? 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 Eh, ne manca uno. Dici, dici, sei in diretta o? No. 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 Facciamo a indovinare anche i ragazzi da casa, hai dato l'indizio. Facciamo a indovinare. Ma tu non sei fatto male, eh? La cazza ha fatto... Ha fatto un volo. Tu ce l'hai le immagini, eh? Sì. E niente, ragazzi. Ormai quasi meno uno. Quasi meno uno, Inter atterrata. Andiamo. Andiamo avanti così. Manca sempre meno. Bene. Fullman che si posiziona, parcheggia e noi ci vediamo domani mattina. Vediamo se qua arriva qualcun altro, no? Tutto... Tutto a posto. Alla prossima, mancano 100 iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Carmelo, hai fatto le riprese giuste? Sembrerebbe di sì. Prossime... Ce l'abbiamo Dunfries che inciampa? Ma no, l'ho voluto inquadrare perché sembrava... Allora no, facciamo scusa, facciamo una moviola. Moviola? Moviola? No, questo è il gradino. E questo perché era qua, fermo questo. Questo qua. E questo qua. E quando è sceso, l'ho trovato qua, ho trovato un gradino qui. E' un schiaccio, eh. E' un schiaccio. E' un schiaccio, ok? E' un schiaccio, ok? E' un schiaccio di cantare. E' un schiaccio di cantare. Scusi, barra. Guarda, perché è il gradino. No, tu mi puoi invalidare il video come all'Olimpico. No, 22, barra. No, non ti ascoltiamo, ci dissociamo in tutto. E qua è il pullman dello staff. Pullman dello staff. Targato Champions Istanbul 2003. Ma scusa, non stai a vedere il gradino. No, no, ci dissociamo. Tu vuoi invalidarci il video come all'Olimpico, lo sappiamo. Hai dei secondi fini. No, ma chiaramente scherziamo. Ragazzi, domani mattina Teccaldo, più famoso di YouTube, versione turca. Quindi molto più forte. Non si dorme, non si dorme. Qui da Istanbul è tutto.